I tabloid inglesi tornano a parlare dei rapporti tesi tra Kate Middleton e Meghan Markle che potrebbero spingere anche i rispettivi mariti William e Harry a trascorrere il Natale da separati Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, Kate e William potrebbero boicottare il Natale a Sandriga Mouse dove invece ci saranno la stessa Meghan insieme a Harry e alla madre di lei Sembra che il primo genito di Carlo e Diana sia disposto a trascorrere le feste con moglie e figli George, Charlotte e Louise a casa Middleton, luogo in cui saranno presenti i suoceri e Pippa con il marito e il bambino appena nato L'astio tra le due cognate sarebbe dunque talmente forte da spingere William a rifiutare l'invito della nonna, la regina Elisabetta II Stando alle indiscrezioni, lo stesso principe e Carlo avrebbe tentato di mediare tra le parti, facendo in modo che i figli non si allontanino a causa delle rispettive mogli Ma anche lui non sarebbe riuscito a ricucire lo strappo.Rapporti tesi tra Kate e Meghan Sarà un Natale da separati in casa Windsor a casa dei rapporti non certo facili tra Kate Middleton e Meghan Markle Secondo quanto riporta il Daily Mail, le due cognate non vogliono trascorrere le festività insieme motivo per cui Kate, William e i figli andranno a pranzo dai Middleton A far nascere qualche sospetto riguardo una simile decisione, ci aveva pensato già James Middleton a fine novembre, quanto aveva annunciato che avrebbe passato la festa in compagnia di tutta la sua famiglia, sottinteso, quindi, anche Kate e William Ben diverse andarono le cose lo scorso anno quando William e e Harry erano stati fotografati alla messa di Natale insieme alle rispettive compagne Kate e Meghan apparivano sorridenti insieme anche se ora sappiamo che all'epoca tra loro era già nato qualche astio Sembra infatti che la Markle si fosse lamentata con l'allora fidanzato per non essere stata presa seriamente in considerazione da Kate e che Harry avesse litigato con il fratello per questo comportamento Il tutto davanti alla servitù Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like